Sarebbero a rischio le ferie per gli operatori sanitari, ossi, infermieri e tecnici nell'ASL Lanciano-Vastocchieti. Il piano ferie non sarebbe stato ancora programmato. La denuncia viene fatta dai sindacati Nursing Up e Nursing. Patrizia Bianchi, che è il consigliere regionale Nursing Up, come stanno le cose? Le cose veramente non sono state mai peggio di così, in quanto il personale era già carente prima dell'avvento Covid e adesso è ridotto veramente all'osso. In seguito a pensionamenti che non sono stati assolutamente rimpiazzati, a persone comunque usurate da tutta una serie di attività fatte in quest'anno e mezzo di Covid e non sono sostituite neanche gli istituti contrattuali più semplici, come per esempio la gravidanza, l'INA e la malattia. Inoltre la nostra azienda si era già resa conto della penuria grande di personale infermieristico e ha indetto un concorso, un concorso che oramai è stato bloccato e fermo al palo. E quindi ci troviamo in queste situazioni qui. Passiamo la parola a Vincenzo Pace, che è segretario provinciale di un altro sindacato, il Nursing. La cosa più grave è che nel contempo sono stati fatti due avvisi pubblici già esauriti senza aver sanato e risolto il problema perché non abbiamo più personale disponibile. La quantità di lavoro che invece il Covid ha fatto emergere è aumentato in maniera considerevole, ma siamo a ridosso del periodo estivo e già questo personale, gravato dalla complessità della patologia, delle attività da svolgere, sta facendo una serie di prestazioni aggiuntive straordinarie, eccezionale. Stiamo arrivando veramente all'ossol esausti. E questo ci preoccupa in maniera considerevole proprio perché vediamo un immobilismo dell'azienda dove neanche le nostre sollecitazioni fatti per tempo, tenendo conto che anche un eventuale ulteriore avviso, non ci sarebbero neanche più i tempi tecnici per un'eventuale assunzione. Quindi la nostra preoccupazione è seria rispetto a un'azienda, un direttore generale che sinceramente sottovaluta la problematica, le ferie sono a ridosso e noi preoccupatissimi. Oltretutto il personale è anche fortemente demotivato in quanto ha partecipato attivamente a tutte le prestazioni aggiuntive che sono state indette dalla nostra azienda per coprire le vaccinazioni, per coprire i tamponi, ma non sono stati ancora pagati. Quindi fortemente demotivati per questa ragione qui.